Lui le fa la domanda fatidica. Mi vuoi sposare? Lei decide di metterlo alla prova. Scusa un attimo. Tim presenta la prima storia d'amore ad alta velocità. Protagonisti principali, Adriana. Diego. In Se mi prendi, ti sposo. Con la partecipazione straordinaria di Tommy e di Team Turbo. La nuova tecnologia di Team che saprà tenerli uniti ovunque si trovino. Team Turbo. Per chi vive ad alta velocità. Mi vuoi sposare? Scusa un attimo. Nasce Team Turbo. Fino a sette volte più veloce. Team Turbo. Per chi vive ad alta velocità. Guarda, qui il sole bacerà la luna. E noi? Tommy. Trovato. Eclissi a Forte Stelle. Grazie fratellino. Che fa? Arriva. Con Team Turbo Friends e tre amici parlano gratis. Grazie a tutti. C'è Diego. Attivati. Attiva un numero Team. E con la ricarica, chiami e videochiami gratis fino a 500 minuti verso Team. Adriana, guarda che idea. Grande. A Natale, regala un telefonino multimediale a partire da 99 euro. Gratis. 80 euro di MMS. E-box e suone via. Miami. Miami. Sono qui. Ora non mi sfuggi. Sicuro? Andriana. 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 Questa la mandiamo a tutti. MaxiCart auguri Team. 1500 auguri a meno di un centesimo l'uno. 500 minuti, foto, SMS. Andriana. 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 Indovina dove suono. Dammi un indizio. Questa musica cosa ti ricorda? E questa scena chi ti ricorda? Team presenta Turbo Call, la grande esclusiva Team, che ti permette, mentre parli, di condividere tutte le tue emozioni con musica e immagini. Portami da lui. Diego, mi hai presa. E ora? Ora ti sposo. Ci sposiamo qui? Ora? Non c'è nessuno. Dai, che invitiamo tutti. SMS. Foto. Chiamate. Suonerie. Tutto a metà prezzo con MaxiFanTeam. E la prima settimana è gratis. Adriana, vuoi sposare Diego? Sì. E tu? Vuoi sposare Adriana? Scusa un attimo. Amore? Adriana? Ho un appuntamento importante. Cosa mi metti? I just wanna live. Don't really care about the thing, don't really care about the thing. Don't really care about the thing. Anche l'occhio vuole la sua parte. Passa a Tinturbo UMTS. Le videochiamate sono gratis fino al 31 dicembre. Anche l'occhio vuole la sua parte. Un appuntamento importante. E la prima settimana mi metti? Sì. Non è l'occhio vuole la sua parte. Antagrafo? Passa a Team Turbo UMTS Con la Mobile TV Calcio vedi i gol più belli della serie A Team È gratis fino al 31 maggio Che gol Ti ha segnato? Ti ha segnato prima Diego Diego? Quattro, 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 quattro Quattro estelini Quattro caperelli Team ci fa in quattro per te Nasce Maxi ricarica di Team La prima che moltiplica per quattro la tua ricarica Ricarichi 30 e parli 120 Dove sei? Sono qui Tutte quattro volte matto Vieni con me Ti porterò lontano perché La vita è così bella e lo sai Che vedrai che troverò la strada Per stare insieme a te Quest'estate Team realizza tutti i tuoi desideri Con uno per tutti Chiamare e mandare messaggi Ti costa solo un centesimo di euro Ma che siete matti? Ma che state a fare? A Pronto Centrale E qua ci sono due ragazze che stanno a fare bagno Sì, dicono che sono Adriana e Diego della Team Sì, vabbè, dati, ma io sono De Siga Che faccio? Lascio andare via il ragazzo O trattengo la ragazza? UMTS Centrale La sospetta ha ricevuto un messaggio sospetto Che faccio? Mi sospettisco Entra nell'estate UMTS Team Con i nuovi telefonini UMTS Festa privata Ancora lei? Urbano per Sighetti, per servire Venga, entri con noi Ma che festa meravigliosa Lei è proprio una gente speciale Sì, è febriare No, meglio, UMTS Vieni cara Stare insieme Vieni con me Vieni con me Ti porterò lontano per te Scopri ai Music Store Entra nell'UMTS di Team E scarica le tue canzoni preferite Sul telefonino Ah, siete nell'Arcanzas Ma che c'è stata a fare a Roma con sto caldo Che sono riuscita a fare Bye bye Adriana! Adriana, ogni volta che la vedo Sento la musica Anch'io sento la musica Ma sul telefonino Sul telefonino? Insomma, entri nella music store Scarica la canzone E la sento quando voglio Sì, e costa solo un euro Ricapitolando Ma è una cosa meravigliosa È una grande invenzione Come l'aria condizionata Oscar da bagno E scarpe